Al canile municipale con la presidente di EMPA per parlare intanto del messaggio che possiamo dare per gli animali che potrebbero essere al seguito dei profughi ucraini che arrivano dall'Ucraina. L'arrivo deve ancora essere ben normato da parte della regione toscana e ci sono stati dei contatti con il direttore generale dottor Durzo e con il dottor Briganti. Quindi dovrebbe a breve la regione toscana dare indicazioni sanitarie esatte. Per il resto noi qui in Canile con Alessio abbiamo preparato un'accoglienza minima se eventualmente arrivassero canini raccolti senza proprietario o perché raccolti si può capire comprensibilmente. E quindi abbiamo dato questa disponibilità, sentito ovviamente l'assessore Carlettini che è d'accordo, per l'ingresso di questi animali in caso di necessità, previo un minimo di organizzazione perché come vedete qui abbiamo i lavori e quindi siamo un attimo, una situazione un po' complicata. E invece partendo ovviamente dall'iniziativa dell'EMPA nazionale, anche voi aderite a questa raccolta fondi? Sì, noi aderiamo a questa raccolta fondi e ci siamo proprio organizzati ieri sera. Abbiamo fatto questo gemellaggio con SAPAS VET, quindi sarà possibile entro il 21 di marzo portare, comprare direttamente a SAPAS VET e lasciare lì o fare un'offerta, insomma lasciare lì sarà rilasciata ricevuta del cibo per cani o per gatti oppure portare qui in Canile e poi noi porteremo a SAPAS. Sì, preferiamo perché il viaggio, il trasporto fino a Verona lo farà SAPAS e l'imballaggio relativo perché deve essere un imballaggio. Da Verona fino al confine, fino a Odessa, faranno il nostro nazionale che organizza dei trasporti. Insomma ci sono tante storie di volontari come te Alessio che hanno scelto, io volevo chiederti proprio questo, hanno scelto di rimanere in Ucraina a fianco dei loro animali. Che messaggio pensi che sia questo? Che pensiero hai avuto quando hai letto di queste storie? Si può dire che comunque sia, qualsiasi schieramento, qualsiasi situazione, l'animale fa parte della famiglia. Portarselo dietro è portarsi dietro una parte della famiglia, quindi è una cosa importante. Bisogna cercare appunto di aiutare tutte le situazioni, noi l'abbiamo sempre fatto qui nel nostro territorio e chiunque ha bisogno come EMPA siamo stati sempre in prima linea per questa cosa. Ci sono tante vite umane che sono state sacrificate, ma anche tanti animali che stanno soffrendo e che patiscono le conseguenze della guerra in Ucraina. Sì esatto, questo purtroppo succede in tutte le guerre, in tutte le situazioni, umanamente per gli animali, per chiunque, sono sempre cose tragiche. Però ecco la differenza fortunatamente è che molto spesso gli animali riescono comunque sia a trovare sempre uno spunto per andare avanti. Questo messaggio di accoglienza che dava la Presidente, insomma, EMPA c'è in caso ci fosse la necessità. Sì sì, noi siamo sempre presenti, non guardiamo nessun tema, esatto, non ci interessa, noi guardiamo di cercare di tutelare animale per animale.